Bene, cominciamo questo video che non so veramente da dove cominciare, non mi sono preparato alcun tipo di discorso e speriamo di dire cose sensate, se no lo rifaccio 6-7 volte questo video, non c'è problema. Oggi vediamo di dirla, proviamo a dirla, dai ce la facciamo. Allora, chi mi segue da tanto tempo, sto parlando del 2011, 2010, 2009 ma anche 2008, chi mi ha conosciuto, insomma, chi mi conosce da tanto tempo sa che, insomma, amo, amo diffondere, divulgare la musica, ci sono 200 miliardi di contenuti gratuiti qui su questo canale e soprattutto su un altro progetto che ho cofondato che si chiama Piano Solo, spesso chi mi conosce mi associa a Piano Solo, spesso chi conosce Piano Solo pensa che sia Cristian Salerno, che sia la stessa cosa, in effetti forse non è mai stata chiara questa cosa negli anni ma neanche fregava gli utenti, tanto vedevano me, ok, Cristian Salerno, Piano Solo, divulgazione pianistica, va bene. In realtà non era così, parto da tanto tempo. Cristian Salerno, questo canale, era nato come canale dell'artista, passami il termine, è super brutto chiamarmi così, però dell'artista Cristian Salerno, quindi che mette le sue performance, mette delle cover, fa dei viaggi, li racconta sotto forma di vlog, quindi se mi vuoi conoscere come persona, ma anche come musicista, c'era questo canale, mentre se invece avevi voglia di nozioni didattiche, se sei uno studente di pianoforte, hai bisogno di consigli, c'era questo canale Piano Solo, canale con sito internet e tutto ciò che ne è annesso. Ecco, quel canale, tutta quell'altra roba lì, che prende il nome di Piano Solo, era fondato da me e da un altro ragazzo, che si chiama Giulio, che poi nel corso del tempo si è aggiunta un'altra persona, e quindi eravamo tre persone, e che abbiamo cooperato insieme per parecchio tempo, quindi dal 2008 fino al 2022. C'è sempre stata questa dualità, chiamiamola così, appunto questa confusione, ma Cristian Salerno, Piano Solo, poi c'è Piano Solo Cristian Salerno, e quindi tra l'altro le altre persone, vedendo solo me, in Piano Solo, loro non sapevano neanche dell'esistenza degli altri, anche perché difficilmente si facevano vedere in volto, sia per vergogna, sia perché magari non era il ruolo che gli aspettava, quello del frontman, no? E cos'è successo? Cos'è successo? Succede un po' come in tutti i gruppi, in tutte le band, succede che a un certo punto quando si lavora, in due, in tre, in quattro, in cinque, nel nostro caso eravamo in tre, succede che a un certo punto uno dei tre dice, ragazzi, secondo me, così come stiamo lavorando, non va bene, dovremmo fare questo, questo, quell'altro, oppure il lavoro che stiamo facendo non è diviso equamente, c'è qualcuno che magari lavora più degli altri. E quindi cosa succede? Si sciolgono questi gruppi, questi gruppi, gruppi di lavoro, gruppi musicali, si sciolgono, ogni tanto, vedete, ogni tanto, spesso e volentieri, il cantante si toglie dalla band e diventa e fa il solista. Lì poi ci sono tante altre ragioni, a volte le case discografiche dicono al cantante, senti, ma tu togliti dalla tua band, noi ti possiamo pagare molto di più e in più ogni volta che dovete fare dei trasferti non dobbiamo pagare cinque elementi, ma ne paghiamo uno solo, ci guadagniamo, insomma, lì poi ci sono tante altre cose. Ora, ogni caso è specifico, non va bene neanche generalizzare. Quindi molto spesso, appunto, queste band o gruppi di lavoro, no? Perché quando ci sono più test all'interno di uno stesso progetto, queste tre teste hanno tutte lo stesso potere decisionale, è veramente molto difficile far funzionare qualcosa. Io penso, poi magari mi sbaglio, che per far funzionare una cosa ci vuole una testa con un solo potere decisionale, tutti gli altri sono o dipendenti o collaboratori. Questa è quella cosa che penso io. Fatto sta che dopo anni, quindi stiamo parlando di più di dieci anni di lavoro insieme, quest'unione si è sciolta. Quindi questo annuncio è per dire che io non faccio più in alcun modo parte di Piano Solo né del progetto Piano Solo. Vedrai e vedrete i miei video che continueranno ad esserci su Piano Solo, quindi sul canale YouTube, sul sito Piano Solo, eccetera, li vedrete ancora fino al 2024, primo gennaio 2024. Quindi ci sarà questo tempo di dualità dove io sarò qui su questo canale dove mi stai guardando e contemporaneamente mi vedrai anche da altre parti, ma io non faccio più parte di questo progetto. È stata una decisione sofferta e più volte, devo dire la verità, più volte nel corso del tempo volevo andarmene perché io penso che in un ambiente di lavoro ci sia bisogno di serenità e c'era una delle tre persone del tempo al quale mi scornavo sempre e non c'era quella serenità e non c'era neanche modo, secondo me, di avere, non so, dei confronti o cose varie. Quindi più volte io volevo andarmi. Poi, sai, è un po' come quando hai quelle relazioni lunghe, no? Magari stai con una persona da... è brutto da dire, ma stai con una persona da otto anni, nove anni e quasi quasi non vuoi, nonostante sai che la cosa giusta è dividerti, non lo fai per il rispetto degli otto, nove anni vissuti insieme. So che è un ragionamento malato e contorto, ma sono sicuro che qualcuno mi capirà. E quindi è chiaro che poi più andava avanti questa relazione, più diventava difficile uscirne. E quando qualcuno mi prova a dire, allora come va, compiano solo? E questo accadeva soprattutto nell'ultimo anno, anno e mezzo, nell'ultimo anno e mezzo ero sempre, non lo so, non è che diceva, ah che figata, mi trovo bene, siamo tre soci, siamo veramente grandi amici. No, cioè non avevo questo tipo di risposta. E anche, non so, anche i miei genitori, oh allora compiano solo, come va? Mi vedevano sempre, mi vedevano sempre un po' non titubante, che comunque davo delle lamentere, no, da parte mia. Mi sfogavo con loro, ecco. E quindi niente, parla di qui, parla di qui, senti di qui, alla fine c'è anche il momento di agire, no? Perché altrimenti uno si lamenta e basta, ma se uno si lamenta le situazioni non cambiano. E quindi, e quindi, niente, è stato, quando è stato, qualche, qualche mese fa, qualche mese fa, prima dell'estate, ho detto agli altri, agli altre due persone di Piano Solo, ho detto, ragazzi, io voglio togliermi dal progetto. E quindi abbiamo valutato insieme se conveniva, perché poi ci sono anche degli accordi commerciali, le robe varie conveniva che io inglobassi Piano Solo, che io, quindi, tra i due reti liquidassi loro e mi prendessi tutto Piano Solo, oppure se era più conveniente che io uscissi da Piano Solo, loro continuavano a tenerlo, e chiaramente poi avrebbero cambiato il frontman, cioè la figura di riferimento, perché come ti dicevo, fino al 2024 ci sarò ancora io, e poi ci sarà un'altra persona, quindi Piano Solo cambierà identità. E niente, alla fine, dopo sentiti qui, sentiti lì, perché poi devi sentire anche avvocati, cioè non è una roba facile, non è una roba facile, e forse è anche questo che un po' mi ha frenato, perché non puoi uscire così dal progetto, ragazzi, io domani esco, ciao, cioè ci sono delle robe in ballo, no? E quindi, niente, alla fine abbiamo deciso che loro continueranno a tenere il progetto Piano Solo, come ti dicevo, fino al 2024 ci saranno ancora lì il primo gennaio, quindi fino alla fine del 2023 ci sarò ancora io che comparirò lì, che comparirò lì io, ciao, benvenuto, su Piano Solo, cose varie, poi non ci sarò più, e quindi essenzialmente sarò solo qui. Che cosa ho fatto in questo tempo di... da quando me ne sono andato a Piano Solo a quando poi sono solo io, ora Cristian Salerno lo troverai solo qui e su questo canale, ho detto, ok, io penso di saper lavorare bene, di saper lavorare bene in autonomia da solo, penso di sapere quello che faccio, e quindi ho voluto realizzare, e al momento sto facendo concorrenza da solo dall'altro lato, ho voluto realizzare un corso mio, un percorso mio per insegnare a suonare il pianoforte a chi parte da zero. Questo è sempre stato, diciamo, il mio sogno, riuscire a dare ad un completo neofita, o a qualcuno che magari ha già preso delle lezioni da bambino, ma non si ricorda più niente, o qualcuno che ha preso lezioni quelli, ma c'ha sempre delle nozioni un po' sparpagliate. Ecco, qualcuno che vuole ripartire dice, ok, io voglio ripartire da zero, faccio un percorso di 4, 5, 6 mesi, e all'interno di quei 6 mesi inizio ad acquisire veramente la BC e le basi dello strumento musicale. Quindi ho lavorato intensamente, non c'è stata estate, non ci sono state vacanze da parte mia, per lavorare a questo progetto. Un progetto dove chi entrasse all'interno di questo progetto potesse avere un percorso assolutamente progressivo per iniziare da zero, iniziare a mettere le mani sul pianoforte, ma non cazzeggiando, imparando a leggere la musica, leggere uno spartito, solfeggiando, perché è anche quello importante, leggere a prima vista, capire la postura e tutti i vari consigli tecnici per riuscire a superare ogni esercizio e brani musicali che sono stati interamente realizzati da me da zero. Quindi non ho preso il brano da questo libro, da quest'altro, così, anche perché se tu vai a prendere robe già esistenti, cercando di metterle in ordine, è veramente difficile. Quindi ho creato io da zero tutto il materiale per far sì che questo percorso sia il più graduale possibile, perché l'ho pensato totalmente io da zero e l'ho realizzato totalmente io da zero. Quindi video lezioni, audio di supporto, riassunto di ogni lezione, insomma, è stata un'estate molto intensa, il mio obiettivo era, Christian, il tuo obiettivo è, entro il 15 di settembre, riuscire a lanciare questo tuo nuovo corso e direi che ci siamo nei tempi. Ho ultimato le ultime cose un paio di giorni fa, quindi è tutto pronto e perciò sono qui per presentarti il progetto Piano Lion e il percorso che attualmente, l'unico percorso che c'è su Piano Lion, attualmente si chiama Impara a suonare il pianoforte in sei mesi. Attenzione, suonare il pianoforte non significa dieci anni di conservatorio condensati in sei mesi, non è assolutamente così, impari le basi e la BC, ma le impari in un modo solido, nel modo che probabilmente tutti gli studenti dovrebbero veramente imparare. Quindi prima magari di andare da qualsiasi maestro di pianoforte, seguiti questo corso, così hai già veramente la BC e le basi per alleggerire anche il lavoro al maestro che ogni volta devi rispiegare le stesse cose, note sugli spazi, note sulle righe, le prime cinque, invece così hai già tutto e la grande comodità delle lezioni in video è che le puoi rivedere quando vuoi. Se una cosa non è chiara, la puoi rivedere, la puoi ricapire. Sono tutte lezioni lunghe, sono lezioni da 45 minuti, quelle che io ho pensato per questo progetto, quindi tu quando entrerai all'interno del progetto ti metti lì sul tuo computer, sul tuo tablet, al pianoforte e ti vedi la lezione di 45 minuti come quando per esempio vai a lezione con il tuo maestro, la puoi rivedere, puoi lasciare dei commenti, ci sarà il gruppo di supporto, eccetera eccetera. Insomma, tutte le informazioni io comunque le lascio qui sotto, sia nel link in descrizione, sia nel primo commento dove potrai vedere tutte le caratteristiche di questo nuovo progetto. Detto ciò, sono felice, sono amareggiato da un lato, perché comunque, tra virgolette, buttare, non sono mai buttati, ma buttare dieci anni della tua vita in un qualcosa che poi, secondo te, non ha funzionato, in realtà ha funzionato benissimo, piano solo, sono arrivate email da parte di centinaia di persone che hanno imparato a suonare il pianoforte grazie a me, grazie alle lezioni che hanno trovato, quindi nulla è stato buttato, c'è stato comunque un percorso di crescita collettivo, sia da parte mia che da parte dei miei ex colleghi, quindi non recriminano niente, è sempre, diciamo, sempre abbastanza triste quando una storia di qualsiasi tipo, che sia d'amore o lavorativa, finisce, però l'importante è prendere a un certo punto coscienza, capire che magari in un certo modo non era più il modo per andare avanti, non era più sostenibile, e quindi niente, qualcuno, mi ricordo, aveva lasciato un commento qui su questo canale, un paio di mesi fa, qualcuno ha detto, Cristian, ti vedo, ti vedo con una luce diversa, aveva lasciato questo commento interessante, e questo qualcuno probabilmente aveva già intuito, che mi ero liberato di un grande peso, era diventato per me veramente un peso enorme da portare sulle spalle, e poi niente, quando ti liberi è una bella cosa, adesso purtroppo non sono così col sorriso a 32 denti, perché comunque è una ferita, se vogliamo, ancora aperta, c'era un grande rapporto di amicizia, c'era un grande rapporto di amicizia, a parte le varie scornate, cose varie, comunque cene insieme, abbiamo dormito insieme sotto lo stesso tetto, abbiamo organizzato incontri dal vivo, siamo stati con persone, siamo stati a giro, quindi c'è stato ovviamente, oltre a un rapporto collaborativo, anche d'amicizia, a un certo punto pensavo anche di essere il migliore amico, però poi niente, la vita cambia, le cose cambiano, noi cambiamo, io magari, io stesso magari sono cambiato, quindi non sono più quello di 5, di 10 anni fa, va bene, bene, volevo dirvelo, volevo dirvelo perché è giusto che voi sappiate, è giusto così, questo canale è anche un po' un confessorio da parte mia, e niente dai, spero che di non avervi annoiato, di avervi dato questa notizia così, nel modo migliore possibile, adesso magari lo rivedo il video, perché se è troppo noioso lo rifaccio, però questo è stato il buono alla prima, bene, bene, ci vediamo alla prossima allora, ciao!